benvenuti al campovolo di reggio abbiamo qui con noi dei belli rappresentanti della cina si chiamano singe ciao giulia benvenuti come siete venuti a fare bellissimo siete sicuri di quello che state per fare andremo a 4.000 metri d'altezza ci lanceremo andremo giù ai 200 chilometri all'ora facile e allora se così facile andiamo allora ragazzi bravi partiamo ok siamo pronti molto bene è la prima volta ok siamo emozionati vedrai che con il nostro lorenzo andremo fortissimo ovviamente ero ironico si andiamo del centro all'ora vogliamo belli power facciamoti anche due foto allora come siamo qui siamo pronti quasi quasi ci vediamo in caduta libera mi batti un 5 è vero Grazie per la visione 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 Grazie per la visione